ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi video di collaborazione con shop di amazon richard direct venditore liusharv ringrazio questa azienda per avermi prestato questo prodotto è una luce led con ricarica solare infatti serve per esempio lo potete mettere in giardino in un magazzino come vedete nel video e vi ricordo che anche la certificazione ip65 che significa resistente a polvere e all'acqua per esempio se piove sicuramente è un'ottima soluzione oggi andremo a fare l'unboxing e poi più avanti fra un po di giorni faremo anche la recensione completa su questa luce che è veramente molto utile secondo il mio punto di vista anche un controllo intelligente dell'illuminazione controllo anche dei sensori di movimento un'altra funzione acceso permanente tutta la notte ora andiamo ad aprire l'unboxing il pacco vediamo cosa c'è all'interno all'interno è una confezione molto curata troviamo il pannello led che sarebbe il pannello della luce solare per ricaricarlo ora vi farò vedere come si mette pure poi troviamo la luce led che contiene addirittura 60 led all'interno della confezione lo potete anche collegare con direttamente con il pannello solare poi abbiamo anche il foglio delle istruzioni che vi permette di utilizzarlo se qualcuno non sa come montarlo sicuramente è un'ottima cosa poi mi manco anche il link in descrizione per se volete acquistare questo pannello led o altri pannelli che ora vi faccio vedere all'interno dello store e trovate sul sito diversi tipo di prodotti con luci led ancora più potenti il sito ve lo rimango in descrizione come vi ho detto e il sito di richam direct in cui questo sito è molto affidabile e si trova su amazon vi rimango il link non lo perdete ragazzi veramente è un'ottima iniziativa all'interno poi troviamo anche i chiodi per mettere in fisso il muro della luce poi qua ci sono tutti i gommini che servono anche per appendere la luce solare ora vi faccio vedere come prima cosa basta basta anche collegare questo filo che vedete qua con il pannello led che sarà un altro tipo di filo per farlo funzionare in questo modo ecco qua poi prendete il pannello lo mettete per esempio io tengo una luce proviamo e comincia a caricare veramente è un'ottima funzione secondo me ragazzi ve lo consiglio assolutamente e poi basta inserire questi chiodi qua dietro molto velocemente anche in montaggio qua dietro dovete collegarlo con questo filo ecco qua ragazzi montato poi dovete anche molto flessibile molto molto comodo a mettere anche in questo modo con le viti collegate le viti qua dentro che vi farò vedere nella recensione completa e sicuramente comincerà a caricare e comincerà a funzionare tranquillamente ora sta caricando perché tengo una luce led al momento allora ragazzi con questo è tutto vi ricordo di iscrivervi al canale lasciare like e condividete i miei video ci vediamo una recensione completa in cui ora in questo momento sta caricando la luce led ragazzi è una cosa veramente figa che vi consiglio di acquistare la potete mettere nel giardino dentro al garage importante ragazzi consiglio mai mai smontare la luce normalmente chiamate sempre dei professionisti ha la garanzia per 24 mesi è veramente utile ci vediamo nella recensione completa ciao ragazzi pannello solare questa è la luce led basta collegarlo per caricare direttamente la luce led quando è scarica direttamente anche fuori in giardino in garage come vi ho detto in questo modo ora la con il pannello solare sta caricando la luce led come vedete questi sensori da dietro potete direttamente ad accendere questo pulsante e schiacciando un pochino eccolo qua e si è accesa ragazzi poi si può si può mettere anche dei chiodi fissi la potete venire la potete anche appoggiare qua con i chiodi come vi ho fatto vedere mettete i chiodi e direttamente tenete la luce a portata di mano la sera che ottimo anche per il magazzino anche per andare in piscina anche per utilizzarla in giro sicuramente è un'ottima funzione comunque ragazzi con questo è tutto ci vediamo alla recensione completa